Ciao a tutti ragazzi e bentornati al corso di trading sportivo sull'IPICA della Trading Academy e benvenuti a questa prima lezione sullo scalping avanzato all'interno del mondo del trading sull'IPICA. Per scalping avanzato ragazzi si intende una sorta di scalping non soltanto delimitato al mercato singolo del cavallo favorito ma in realtà ha una sorta di trading più grande perché quando noi facciamo scalping avanzato stiamo analizzando più mercati. Perché analizzeremo più mercati? Perché spesso sono le pressioni che arrivano anche dagli altri mercati a muovere i mercati del cavallo favorito per esempio. Per farlo sarà indispensabile ragazzi innanzitutto avere un grafico di questa tipologia qua. Nel senso io attualmente sto utilizzando il mio computer fisso, non ho altri dispositivi attorno. Solitamente nel mio studio diciamo dove appunto faccio trading ho due monitor, ho un monitor in alto e un monitor in basso e nel mio ufficio in realtà ho anche il monitor quello USB, quello che si può appunto agganciare a quello esterno. Qui in realtà io utilizzo quasi sempre due monitor per fare trading, per fare scalping avanzato. Ma qualora voi non aveste due monitor io vi consiglio di utilizzare un'impostazione grafica di questo tipo. Ossia avere su BetAngel o su Fairbot ragazzi non importa voi potete utilizzare il software che volete il mercato del cavallo favorito qua a destra in grande. Naturalmente andando con il mouse sul mercato appunto del cavallo favorito possiamo vedere appunto in grande il mercato appunto come funziona, come sta procedendo il mercato del cavallo favorito. In qua in basso invece vi consiglio di avere i due mercati dei due cavalli subito successivi, quindi del secondo favorito e del terzo favorito. Innanzitutto è molto importante vedere la liquidità che entra su questi mercati, quindi la primissima cosa che faccio quando faccio scalping avanzato è vedere la quantità di liquidità che continua a entrare. Come vedete nel terzo cavallo favorito non sta entrando una grossa liquidità e quindi in questo momento i cavalli con più liquidità sono assolutamente il primo e il secondo. E infatti possiamo vedere che mentre questo cavallo qua sta salendo il primo cavallo favorito, il secondo cavallo favorito sta scendendo. Ossia questo cavallo qua, quindi molto probabilmente tanti scommettitori, tanti trader se stanno puntando questo cavallo qua, questo causa appunto il fatto di far scendere questo mercato e di far salire invece il mercato del cavallo favorito. Qua possiamo vedere anche l'outlook generale, possiamo vedere che questo cavallo viene bancato, perché è il chiaro cavallo favorito, vedete appunto che c'è tanta liquidità, ma in questo momento dato che noi vogliamo fare scalping, vogliamo entrare e uscire dai mercati, siamo interessati a vedere quando arrivano delle grosse fette di liquidità, vedete appunto che in questo momento sono entrate 2000 sterline, 2000 euro all'interno di questo mercato, quello che stiamo cercando di aspettarci appunto è un drift, probabilmente di questo cavallo qua, per appunto entrare in scalping su quest'altro mercato. Vedete appunto, in questo momento stiamo analizzando ragazzi i mercati, più che ipotizzando un ingresso. In questo momento stiamo vedendo che il primo cavallo favorito sta andando in drift e questo drift principalmente causato appunto da questo cavallo. Adesso questo altro cavallo qua sta risalendo, probabilmente si sta creando una sorta di trend all'interno di questo mercato e quindi non appena la liquidità scende su questo mercato qua, sempre il solito canone del top range della liquidità, io entro ed esco ragazzi. Adesso lo vedrete, non appena questa liquidità scende, eccolo qua, è appena successo, entro ed esco dal mercato, non sono riuscito a entrare subito immediatamente, ma cerco appunto di entrare con un singolo scalpa. Adesso sono entrato con 3 ticks di offset, ma cerco di chiuderlo prima ragazzi, cerco di far vedere come si chiude prima appunto questo ordine. Come potete vedere, in questo momento verrò abbinato a quote di 1,99 e ho chiuso il mio primo scalp ragazzi, ho chiuso il mio primo scalp proprio perché ho seguito tutti i canoni dello trading, diciamo di base tradizionale, il top range della liquidità sul cavallo favorito, ma dall'altra parte ho anche visto da dove stavano arrivando le pressioni. È molto importante avere almeno 2 o 3 mercati attivi, proprio perché dobbiamo vedere da dove stanno arrivando le pressioni. In questo particolare caso, le pressioni di questo cavallo che stanno risalendo, quindi questo è un cavallo che sta risalendo, possiamo anche vedere che sono entrati abbastanza tanti soldi, stanno facendo scendere il secondo cavallo favorito, e molto probabilmente questo cavallo continuerà adesso a salire, continuerà ad andare in su, anche per via del punto incrementale. Ma essendoci nuovamente al top range della liquidità, non appena vediamo appunto della liquidità, questo mercato qua, risalire, sicuramente il secondo cavallo scenderà. E quindi quello che faccio in questo momento è esattamente la stessa identica cosa. Entro e resco per un altro scalp. Perché? Perché siamo nuovamente al top range della liquidità sul cavallo favorito, e perché questo cavallo sta tornando appunto in drift. I cavalli, ragazzi, lavorano in tandem, lavorano insieme. Significa che il mercato del cavallo favorito influenza il secondo favorito, e viceversa. Quando appunto questo mercato, il trend, sta salendo, adesso vedete che sono entrati 500 euro, questa probabilmente è una manipolazione, questo cavallo sta nuovamente scendendo, questo è uno spike, si chiama spike di mercato, e questo mercato sta nuovamente risalendo. Vedete ragazzi che c'è una sintonia, potrei dire, tra questi due mercati. Vedete appunto Cold Hard, il cavallo favorito che sta salendo, mentre l'altro cavallo sta scendendo. Ma perché questo cavallo qua sta salendo? Non perché hanno tutti cambiato idea, tutti, oh mio Dio, adesso questo non è più il cavallo favorito, ma perché appunto sono entrati 500 euro circa sul mercato del cavallo favorito che appunto ha fatto scendere questo mercato. Adesso questo risalirà, questo riscenderà. Top range della liquidità, ragazzi, ormai lo sappiamo. Questo è come funziona il trading sull'Ippica, non c'è più niente da farci, ve l'ho spiegato in ogni modo. Bisogna aspettare, bisogna avere la pazienza, bisogna aspettare il momento giusto. Top range della liquidità, abbiamo visto da dove stava arrivando la pressione di questo mercato. In questo momento che cosa sta succedendo? Non stiamo scendendo, ma siamo al top range della liquidità. Adesso stanno entrando tanti soldi su questo cavallo qua. Molto probabilmente questo sarà un cavallo che continuerà poi a scendere a ridosso della gara. Adesso mancano tre minuti prima dell'inizio della gara. Vi ricordo che noi possiamo anche essere difensivi, ragazzi, e possiamo appunto chiudere la nostra posizione in profitto qua, prendendoci subito il prezzo, qualora dovessimo vedere appunto una situazione in cui i mercati dovessero andare contro di noi. Ma in questo momento che cosa è successo? Stanno entrando tanti soldi sul mercato del cavallo favorito, e quindi in questo momento ho chiuso la mia posizione. Ho fatto 1,23 euro, ho chiuso tre posizioni di scalp. Sono entrato sempre e solo quando il cavallo favorito era al top range della liquidità, ma ho monitorato, scusatemi, la situazione guardando le pressioni che arrivavano da parte del secondo cavallo favorito. Ecco qua, ragazzi, un altro esempio di come impostare una sessione per fare scalping avanzato. Innanzitutto, ragazzi, come vi dicevo, il cavallo favorito deve essere qua al centro. In questo caso, premendo 1, 2, 3, abbiamo i tre cavalli favoriti. Abbiamo Spelga, il primo cavallo. Come vedete le quote però sono di 5.8, 5.9, quindi in realtà qua non c'è un chiaro favorito, quindi è molto più difficile fare trading sui cavalli così. È sempre meglio avere il chiaro favorito, comunque il cavallo che è favorito rispetto agli altri. In questo momento abbiamo un'impostazione appunto per fare scalping avanzato. Vi consiglio di inserire l'offset soltanto a un tick per fare scalping su questi mercati, proprio perché è più complicato di riuscire a trovare appunto le occasioni, ma cerchiamo appunto di vedere che cosa succede. L'outlook di mercato, in questo momento abbiamo tanti cavalli, questa è una corsa con tante selezioni. Abbiamo Spelga che è il cavallo favorito, ma vedete appunto il mercato essere abbastanza, abbastanza indeciso. Non ci sono nemmeno tanti soldi su questo mercato, quindi quello che vi consiglio di fare, ragazzi, su mercati di questo tipo è semplicemente lasciar perdere il mercato e passare alla corsa successiva. Vedrete, ragazzi, che ci sono tante, ma tante corse ogni giorno per fare trading sul mondo dell'ipica e non è assolutamente necessario tradarle tutte, molto indispensabile invece tradare le corse principali e le corse dove c'è il chiaro cavallo favorito. Ma quello che volevo farvi vedere all'interno di queste corse è che spesso, all'inizio, proprio poco prima dell'inizio della corsa, circa uno o due minuti prima dell'inizio della corsa, tutti gli scommettitori cercheranno di appunto trovare un cavallo da puntare. Quindi tutti cercheranno in ogni modo di puntare i loro 5-10 euro sui cavalli, 5-10 sterline all'interno dei negozi di scommesse, eccetera, eccetera. Quindi quello che succederà, ragazzi, vedrete che a ridosso delle corse dove c'è indecisione all'interno dei mercati, molto spesso ci sarà un cavallo che andrà in steam, proprio perché subirà le pressioni degli altri cavalli che andranno in drift e quindi potrà succedere, ragazzi, adesso lo vedremo, se a ridosso di questa corsa succede qualcosa, che un cavallo potrebbe tendenzialmente andare in maniera importante anche in steam, proprio perché tutti gli altri verranno bancati o questo verrà puntato. Questo è un andamento classico, ragazzi, dei mercati abbastanza indecisi. Quando c'è molta indecisione all'interno dei mercati, vedrete appunto spesso esserci un cavallo che andrà appunto giù in steam. Adesso in questo momento questo, ragazzi, non è assolutamente un mercato che vi consiglio di tradare. Come vedete non ci sono assolutamente i canoni per riuscire a entrare. Nella lezione di oggi appunto volevo farvi vedere come si imposta una sessione di scalping avanzato. Vi ricordo che per fare scalping avanzato noi controlleremo sempre il range di liquidità all'interno dei cavalli. Abbiamo bisogno di un cavallo favorito, come sempre al top range della liquidità, quindi la base dello scalping rimane la stessa. Quello che sarà più avanzato, ragazzi, sarà la maniera con la quale noi analizziamo un mercato. Prima semplicemente a noi ci bastava guardare il cavallo al top range della liquidità, vedere appunto se la liquidità scendeva dall'altra parte e entrare per un rapido scalp. Nello scalping avanzato invece noi, ragazzi, guarderemo anche gli altri mercati. Soprattutto impareremo a leggere le manipolazioni che stanno entrando, come per esempio, su questo mercato, proprio perché sarà importante riuscire a leggere quello che succede. Ma come vi volevo dire in questo esempio, volevo appunto farvi vedere che molto probabilmente, mancano pochi minuti all'inizio di questa corsa, ci potrà essere una manipolazione che farà scendere un cavallo e quando scenderà un cavallo vedrete, ragazzi, che si creano le occasioni. Lo scalping in realtà si può fare quando appunto il trigger di mercato è appunto il cavallo favorito, una sorta di cavallo che scende in maniera importante all'interno del mercato e diventa automaticamente il cavallo favorito. In questo momento stanno entrando tanti soldi, ragazzi, il mercato si è praticamente raddoppiato nel giro di pochi minuti, ma non è ancora assolutamente il momento di operare perché appunto non ci sono ancora i presupposti. Questo mercato addirittura sta scendendo, questo cavallo sta scendendo, Liquid Luck anche sta scendendo, quindi molto probabilmente qualche altro cavallo starà salendo. Ma in questo momento, vedete, i mercati sono abbastanza piatti. Quando ci sono queste modalità, quando ci sono queste, diciamo, informazioni di mercato, semplicemente se non succede nulla, ragazzi, se non trovate appunto il cavallo che adesso andrà pesantemente in Steam e quindi farà muovere i mercati, quindi creerà delle occasioni di investimento sugli altri cavalli, sugli altri asset, quello che farete voi, ragazzi, skipperete semplicemente la corsa. Faremo poi tanti webinar anche insieme, ragazzi, dove vi farò vedere un'intera, magari, giornata di operatività sul mondo dell'Ippica, però questa è semplicemente una corsa dove in realtà non vedo nessun input per entrare. Adesso c'è una manipolazione all'interno di Spruce Meadows e vediamo se questo è un cavallo che scenderà. Pare di sì, c'è stato uno spike. Questo qua probabilmente è un cavallo che tornerà su, quindi probabilmente quello che faccio adesso, vado a vedere Spruce Meadows e molto probabilmente tornerà su. Ci sarà appunto la possibilità probabilmente di fare uno scalp rapido dall'altra parte, proprio perché c'è stata una manipolazione di mercato. E appunto quando vengono manipolati i mercati, vedete appunto Spruce Meadows, questo qua è uno spike, ragazzi, lo studieremo più avanti nel corso dello spike trading, è proprio quello di operare all'interno di queste grosse manipolazioni di mercato. Adesso il mercato si riassesterà, vedete appunto il supporto che c'è dietro questo mercato, questa liquidità si rispingerà in su, proprio perché non ci sono grosse pressioni, ragazzi. All'interno di questi mercati, quando non ci sono grosse pressioni, è facile in realtà fare scalping, perché? Perché molto sovente i mercati in realtà poi si ristabilizzano, quindi ritornano su e quello che succede, essenzialmente ritornano allo stato iniziale, proprio perché non stanno entrando tanti soldi. Non essendoci tanti soldi all'interno del mercato, è molto semplice anticipare appunto un mercato che semplicemente si riassesta. Adesso vedete appunto ragazzi questo mercato, quote di 6.8, c'è il mio ordine da 50 euro, voi utilizzate stake da 2 euro, ma all'inizio fate anzi soltanto tanta pratica, guardate i mercati, non dovete entrare su ogni singolo mercato, dovete abituarvi a comprendere come si muovono i mercati di scalping, i pc che sono assolutamente più avanzati in assoluto all'interno del trading sportivo, ma quello appunto di cui volevo farvi, di parlarvi oggi, è quando non ci sono delle chiare occasioni all'interno dei mercati, va benissimo non operare ragazzi, in questo momento chiudo un'altra operazione, 1,47 euro, e quindi chiudo due o tre operazioni oggi, che appunto vi ho fatto vedere, con qualche euro di profitto, ma va benissimo ragazzi perché vi sto insegnando a lavorare, adesso vedete Liquid Luck, come vi dicevo eccolo qua, eccolo qua, il nostro trigger è proprio questo cavallo che in questo momento sta scendendo, 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 Liquid Luck probabilmente starà diventando il primo favorito, e come potete vedere Liquid Luck adesso sta scendendo, anche perché è entrata una gigantesca manipolazione di mercato, quando ci sono le gigantesche manipolazioni di mercato ragazzi poi vi insegnerò come lavorare, ma per oggi basta così, volevo appunto farvi vedere le impostazioni dello scalping avanzato, sia il grosso cavallo favorito sulla destra, grande, oppure su altri schermi, e invece gli altri due mercati vicini per riuscire a monitorare le pressioni che arrivano dagli altri mercati. Molto molto importante ragazzi, prendetevi il vostro tempo, il trading sull'IP che è la modalità in assoluto più avanzata di trading, quindi nessun problema, procedete al vostro ritmo, con il vostro tempo, non preoccupatevi, dovrete guardare centinaia di mercati prima di capire qualcosa, quindi assolutamente va benissimo, noi ci vediamo la prossima settimana ragazzi per continuare il discorso dello scalping avanzato, andremo un po' più nel dettaglio per capire quali sono i mercati migliori per iniziare, perché naturalmente molti di voi dovranno iniziare magari a fare scalping un po' più avanzato, lavorando anche su altri mercati, e quindi noi ci vediamo la prossima settimana ragazzi per altri contenuti del corso di trading sportivo sull'IPICA. Grazie a tutti.